Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo che ruota attorno ad una bambina silenziosa soprannominata o vittima di una tragedia. La trama del libro dello scrittore Roberto De Zorzi, pubblicato dalla casa editrice Rossini, è la seguente. 1956, è una calda estate ad Albreitzville. Tra i tendoni di un circo c'è una bambina silenziosa. Il suo nome è Ophelia, soprannominata Bo dai membri della Banda del Tasso, i suoi primi veri amici. Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, fino a quando una tragedia pone fine alla sua giovane vita. 2018, nello chalet di montagna ereditato dal nonno del marito, Sara vede materializzarsi sui vetri delle finestre la lettera Bo, un indizio che presto la conduce al luogo in cui fu uccisa Ophelia. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.